ciao a tutti ragazzuoli ragazzuoli da sampo 83 rieccoci qua su Lara Croft del Tempe di Ossilide abbiamo girato la leva praticamente era solo da girarla a quella esterna finché dava le monete poi bastava uscire io mi stavo scervellando abbiamo sconfitto il gelo dunque avviamo vediamo se sto registrando scusate è giusto per essere scaramantico ok la statua di Ossilide è completa ci indica che dobbiamo andare là ok equipaggiati allora io mi metterei un bel lanciarazzi qua invece delle pistole ahimè metterei allora mitra fucile a pompa potenziato mitra potenziato doppia pistola fucile d'assalto potenza arma potenza arma devo mettere qualcosa di cattivo fucile potenziato no ma questo qua è quello pistola in onice lì no cosa ho fatto allora facciamo così allora qua mettiamo le pistole in onice e qui mettiamo il mitra no mitra potenziato no potenza arma fucile d'assalto vediamo ok dove devo andare andiamo l'assetto ok dove devo andare dritto aia qua la vedo dura la camera di sette ci attende ok siamo pronti è il momento che lo vogliamo no dai forza coraggio qua andiamo sconfiggi sette in meno di cinque minuti colpisce i cinque nemici con l'esplosione di energia passa fra la gamba di sette almeno una volta non mi interessa avete fatto più di quanto potessimo chiedere mortali ora non dovete venire con noi non potresti fermarmi neanche volendo iside che cavolo è successo ah ok le scale aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai ok non so perché mi sono infuocata ma uiaiaiaiaiai eccola qua ammiratemi sono più grande di Osiride perché ho vinto la morte e sono tornato più forte che mai e devo ringraziare solo voi vediamo qua è brutto questo eh forza finiamo questa storia cosa? no ah c'è il mio alleato fratello vieni da me lascia che ti mostri cos'è davvero la morte quando sarete morti farò dei burattini con i vostri cadaveri vi farò inginocchiare dinanzi a me ho già finito le munizioni assurdo eh perché che cavolo gli sparo adesso io che cavolo gli sparo io devo passare in mezzo alle sue gambe è vero ok potenziamento saluto il massimo me l'ho data sono passato in mezzo alle sue gambe però non ho munizioni non ho non ho non ho è vero non ho fiume non ho che non ho non ho non ho menzioni ti definisci un dio, tu non vuoi nulla ok vai 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 dai lancia razze, lancia razze, lancia razze oh caspita di nuovo ma non sembra così ma non ah già ok salta un po' ok facciamoci col lancia missili ma che cavolo ha fatto che cavolo sta succedendo adesso io vado di qua oh caspita ok non avrò pace finché l'ho divorato tutto il creato e sarò al centro di ogni cosa basta con queste chiacchiere sono morto sono morto mmm va bene e dai ci fermiamo qui per questo video quindi siamo tornato a tre vi saluto a ciao ragazzuoli ricontinuiamo bene con questa sfida di Lara Croft del tempo di uscire dell'ultimo boss ciao ragazzuoli ciao